Volere qualcosa fermissimamente, fortissimamente e raggiungerlo, anche questo è Wabi Sabi. Perché Wabi Sabi è attenzione per le piccole cose. Quando tu pratichi Wabi Sabi, tu metti il tuo obiettivo finale in ogni piccolo momento della tua quotidianità. E quindi non te lo puoi mai dimenticare, ce l'hai sempre davanti, fai sempre focus su quello che è il tuo obiettivo. Wabi Sabi ti insegna a mettere l'obiettivo nelle piccole cose, a portarlo nella quotidianità e a essere sempre presente a te stesso, alla missione per la quale la tua anima è venuta.